Il quarto seminario della Scuola di Liberalismo di Catanzaro, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza a Magna Grecia, ha ospitato il professor Carlo Lottieri dell'Università degli Studi di Siena, il quale dinanzi a numerosi partecipanti ha svolto un'interessante e apprezzata relazione sulla teoria libertaria della politica. Il seminario è stato introdotto da Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Vincenzo Scoppa, promotrice dell'iniziativa, il quale ha sintetizzato i profili essenziali del libertarismo, richiamando il suo stretto collegamento con il liberalismo classico e l'articolazione nei due grandi filoni, rappresentati dai mini anarchici, sostenitori di uno Stato minimo e dagli anarcho-capitalisti, che propugnano invece l'estinzione dello Stato. Il professor Lottieri ha svolto la sua relazione, sottolineando come, durante gli ultimi cinque o sei secoli, l'evoluzione della società occidentale è stata caratterizzata dall'imporsi e poi dal consolidarsi dello Stato moderno, che è cresciuto in maniera tutt'altro che lineare ed è comunque riuscito a espandere sempre più i propri poteri. In parallelo a tutto ciò si è sviluppata la tradizione di pensiero liberale che ha volto i suoi sforzi verso la protezione della libertà individuale e l'autonomia della società civile di fronte all'avanzata del Leviatano. Lo stesso relatore ha quindi concluso che la teoria libertaria si propone di pensare la libertà individuale dopo lo Stato moderno e quindi anche oltre il liberalismo classico, che nei secoli dominati dalla statualità ha avuto il grande merito cercato di contenere le pretese del potere e proteggere quanto più è possibile la dignità dei singoli. I principi liberali, per quanto affascinanti, vengono spesso accusati di essere solo utopia. Secondo lei è proprio così? Non credo sia così. Credo che certamente, anche da quanto dicevo prima, c'è un elemento in qualche modo utopico, nel senso che c'è l'idea che è un orizzonte da perseguire, quello della libertà individuale. È un criterio morale, è l'idea che una società è tanto più giusta quanto meno vi è un ricorso alla coercizione. Però al tempo stesso è qualcosa che produce grandi effetti. Le società che hanno adottato in maniera più o meno perfetta, più o meno coerente i principi liberali, poi si sono rivelate società molto più floride, molto più efficaci, in grado di dare prosperità e di dare anche pace alla popolazione. Quindi credo che ci siano dei risultati ben precisi e dei risultati molto positivi come conseguenza del rispetto dei principi morali che sono la base del liberalismo. Da qualche anno lei ormai è ospite fisso in Calabria. Che idea si è fatta del Meridione? Ma io penso che in larga misura noi quando incontriamo il Mezzogiorno riscontriamo proprio le conseguenze negative dell'intervento pubblico. Cioè di una società in cui gli uomini di partito e i gruppi che gravitano attorno ad essi, qualche volta anche malavitosi e le burocrazie eccetera, hanno un ruolo eccessivo. Cioè la società meridionale è una società purtroppo in cui c'è un eccesso di Stato, un eccesso di politica e io credo che in questo senso c'è una grande responsabilità anche del Nord e oggi ci troviamo, il caso di Termini Menese è molto significativo, con il completo fallimento dell'assistenzialismo. Quindi quali potrebbero essere le soluzioni? Credo che si debba partire da qui, lo statalismo ha fallito, il centralismo ha fallito, l'idea come dire di fare del Mezzogiorno un'area che in larga misura dipende dalla redistribuzione, si è rivelato fallimentare soprattutto per il Mezzogiorno e quindi bisogna dare spazio il più possibile alle imprese, a chi voglia di fare, bisogna ridurre la tassazione, ridurre la regolamentazione, cercare di fare del Mezzogiorno un'area attrattiva. Quarto potere e società aperta sarà invece il tema del quinto seminario della Scuola di Liberalismo che si svolgerà il 19 febbraio con la partecipazione del professor Franco Chiarenza dell'Università La Sapienza di Roma.